Il focus di Rivolta è sempre sulla tecnologia digitale e sull'innovazione dell'automotive. L'azienda, che ha sede alle porte di Milano, produce e distribuisce prodotti di consumo e attrezzature nel settore automotive dal 1951. Il 2019 segna un momento di evoluzione in cui Rivolta vuole guardare oltre e puntare tutto sulla strumentazione tecnologica, sull'automazione, sul know-how che da sempre ne caratterizza i risultati, sull'assistenza tecnica post vendita e sulla formazione specializzata. In occasione di Autopromotech, Rivolta presenta ai propri clienti e ai professionisti del settore alcune novità assolute nel settore dell'attrezzatura per gommisti e officine. Rivolta Automotive ha realizzato in collaborazione con importanti produttori italiani una linea di prodotti personalizzata interamente made in Italy. Visione è l'impianto con sistema 3D di allineamento ruote a 6 camere ideato per il controllo totale della geometria ruote di vetture e trasporto leggero. Le sue particolarità sono rappresentate dalle telecamere laterali al ponte sollevatore autonome, dalle letture con simulazione dello pneumatico e dal fatto che non serve compensazione. Laser Depth Reader è uno strumento affidabile e veloce per la misurazione della profondità del battistrada con sistema laser per la scansione. GeoReader è l'apparecchio computerizzato per l'assetto ruote di autovetture, preciso, di facile utilizzo e veloce. In anteprima Rivolta presenta Equilibratrice E4200 ed Equilibratrice E4300, dall'elettronica avanzata con display e con monitor ad alta definizione. Smontagomme S2500 2V e smontagomme S3000, entrambi super automatici. Sistema Digital ADAS per il controllo, la taratura e calibrazione dell'insieme dei sistemi elettronici di assistenza alla guida installati sul veicolo. Jumbo 3D, allineatore per veicoli commerciali e industriali, ha 5 assi che è stato selezionato come prodotto innovativo dell'anno Automeccanica 2018. Rivolta ha scelto di guidare il suo team esperto verso un futuro automatizzato, funzionale e intelligente nel settore dell'automotive. Rivolta ha scelto di guidare il suo team esperto verso un futuro automatizzato.